Nuovissimo aggiornamento segreto su Fortnite dove finalmente verranno riaggiunte le build. Con anche questa nuova grafica ragazzi, molto più bella, infatti questa grafica è stata vista tramite un bug nella prelobby, veramente bellissima. Scrivete nei commenti se preferite Fortnite con le build o senza build, e mi raccomando condividete questo video a tutti quanti i vostri amici che non vedevano l'ora appunto del ritorno delle build. Ovviamente codice NAXX nello shop di Fortnite se vi piace appunto questo mini aggiornamento. Probabilmente rimarrà una modalità senza costruzioni, però sinceramente a me mancano, quindi le rivolrei in game. Scrivetemi nei commenti appunto se preferite Fortnite con oppure senza le build. Secondo me ci sarà anche un po' di guerra nei commenti, perché vedo che le opinioni sono veramente molto diverse. Detto questo cliccate uno dei video a schermo per stare aggiornati sulle news e sulle ricompense gratis di Fortnite.